Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, dovremmo essere in diretta e stavolta non siamo su i ricordi del passato ma finalmente iniziamo un nuovo episodio della scaletta iniziale che quindi per pochi, per chi l'abbia vista è una scaletta che si concentra su una serie di portare ospiti che scrivono poesie oggi con noi c'è Nicola Sabatelli, puoi presentarti Ciao a tutti, grazie per l'opportunità, io sono Nicola Sabatelli, ho scrittore diversi parlando un po' di me ho fatto il liceo classico, scrivo praticamente da sempre anche se quando ho iniziato il liceo, proprio quando ho iniziato il liceo ho sostanzialmente smesso perché non ottenevo risultati che fossero per me soddisfacenti poi piano piano ho ripreso con altri, anche altri generi, altre tipologie di scrittura fino a che qualche anno fa, durante il penultimo anno di università, nel bel mezzo della sessione estiva quindi sotto esame e sotto stress vari, ho iniziato a scrivere poesie per necessità anche se è una cosa che odio dire perché dire che ho iniziato a scrivere per necessità è come se fosse qualcosa di impulsivo e non troppo ragionato quando non è sempre così è un problema, è una necessità per me scrivere certamente ma non mi piace dire che lo faccio per necessità è qualcosa di un pelo raffinato che non riuscirei, non saprei in grado di esprimere adesso e da quando ho iniziato qualche anno fa non ho sostanzialmente smesso e qualche mese fa ho aperto questa pagina Instagram preso da un, non so, forse un pelo di modestia almeno rispetto al solito per condividere i miei versi e ciò che scrivo e penso e penso tutto quanto, quando frequento la laurea magistrale di beni culturali a Parma il resto è tutto contesto diciamo, sono quello che sono grazie a tutto quello che c'è stato prima e c'è adesso quindi non è ben delineato e non lo saprei ben delineare ma quindi dalla tua descrizione la poesia la possiamo chiamare come antistress in un certo senso o è più di un antistress, cioè di un antiqualcosa diciamo che ti distrae diciamo ti fa uscire da quel momento per entrare nel momento della poesia in un certo senso io direi che è un antistress ma in un altro non ho perché da un certo punto di vista forse contraddicendo quanto appena ho detto prima io scrivo perché è un'esigenza quindi non sempre è un antistress lo scrivo perché lo voglio fare non che debba scrivere, non che scriva anche cose banali per il semplice fatto di dover scrivere ma cerco sempre di scavare il più possibile per poter scrivere da un certo punto di vista sì è una necessità e da un certo punto di vista è anche un antistress nel senso che è un po' la mia zona di comfort in un certo senso perché all'interno di quello spazio, all'interno di quelle parole sono in un certo senso sicuro di me posso fare quasi tutto insomma ok e se ti devi definire appunto in qualcosa quando sei all'interno della poesia in una parola o più come ti risponderesti alla domanda chi sono nella poesia? interessante in realtà non saprei definirlo bene io quando scrivo poesie sono me stesso alla fine cioè io cerco di descrivere quello che vedo, quello che sento è un po' utilizzando un'immagine già utilizzata da altri della mia pennellata su questa tela immensa su questa tela immensa il mio contributo insomma sostanzialmente alla vita quello che io penso di poter fare per cui sì all'interno della mia poesia mia tra virgolette poesia io sono me stesso e inserisco il mio mondo i miei difetti, i miei pregi insomma tutto ciò che mi riguarda in un certo senso i miei problemi le mie evoluzioni eccetera quindi diciamo trovi diciamo in un certo senso quel rifugio però diciamo non che ti allontana dal tuo carattere dalla tua personalità ma anzi esalta, evidenzia com'è il tuo carattere in alcune situazioni che forse invece nascondi nella vita reale tipo che ne so si crea un'esperienza sa però non ti sei comportato come te stesso ma sa immaginarti come sarebbe andata quando ti rifugi nella poesia perché riesci a comprendere come ti saresti comportato se avessi seguito te stesso e non un altro modo di essere te stesso sì infatti io infatti io una cosa che ho pensato un po' di tempo fa è che non ricordo non so se c'entri per perfettamente però dal mio punto di vista io non sono in grado di ricordarmi le mie poesie tranne alcune a cui e soprattutto quelle iniziali a cui ho tenuto particolarmente per cui io dico che se fossi in grado di ricordarmene tutte probabilmente sarei quello che vorrei essere veramente però che nella poesia cerco di essere lo sarei anche nella vita reale sostanzialmente però io nel mio caso per dire per farti un paragone io non cerco diciamo se devo rispondermi alla mia domanda a chi sono nella poesia è un insieme di cose perché l'essere me stesso io lo rifletto più diciamo lo ributto diciamo nella mia vita reale nella poesia diciamo metto cose che io non avrei mai avuto il coraggio di fare nel caso simile al tuo tipo che ne so vedo un'occasione però non mi butto in quell'occasione ma la butto a scrivere come l'avrei fatta ad esempio sì oppure a volte mi comporto con quell'ironia pungente che in me non c'è nella vita reale ma che tengo una sposta però che trovo rifugio nello scrivere è una via di mezzo diciamo sia nell'essere me stesso e sia nell'essere una persona che non sarei mai però nella poesia lo faccio perché è da quel carattere peculiare che forse nella realtà dei fatti può anche non piacere può essere disprezzata ma nella poesia da quel fascino da quel che che possa più incantare sì ci sta sì poi è molto molto interessante ci sono tante sfumature per cui si dipende anche da quella che si riesce a cogliere per far trasparire meglio i propri testi secondo me esatto anche su ora hai diritto se vuoi di scegliere due poesie dal tuo catalogo dal tuo archivio nascosto della CIA puoi scegliere quali poesie leggere e poi mi dirai anche il perché hai scelto quelle due se c'è il motivo sì allora io inizierei da inizierei da dalla più recente che ho scelto sostanzialmente perché non so mi identifico abbastanza credo che rappresenti abbastanza bene quello che voglio cercare di dire nella maggior parte dei casi ed è credo veramente la penultima o l'ultima poesia che ho scritto se non si calcola l'aforisma di posso? vai prego perfetto queste strade ancora non ho imparato a conoscerle e spesso non so quali ripercorrere per questo ti prego dimmi che ti perderesti con me se mai dovessi perdermi io stesso perché non sono sicuro che in quel caso potrei tornare sugli stessi passi è finita ho cercato di rappresentare descrivere quello che è un po' il mio stato d'animo in alcuni casi che è una sorta di tentativo di tenere accanto a me le persone a cui tengo perché appunto potrei perdermi cioè potrei cambiare strada sbagliare strada e non sono sicuro che poi potrei tornare su quegli stessi passi perché magari non sono adatti a me quindi è un tentativo di diciamo un appello per cercare di tenere vicino a me queste persone non è un io cerco di non fare quasi mai riferimento a una persona un amata o un amato perché non credo che sia strettamente necessario averne per essere felici però sì è un po' quel tentativo di tenere accanto quelle persone scusate è un po' un tentativo di tenere accanto quelle persone vicine appunto che non sono necessariamente l'amato o l'amata o chi altro insomma ma può essere più anche un proprio io ideale sostanzialmente o un mio bambino che si è nascosto nelle nelle necessità della vita adulta sostanzialmente per cui si perde un po' di autenticità diciamo utilizzando le immagini già utilizzate certamente però quindi diciamo quel tu quel tu nascosto sottinteso è come se fosse in realtà un tu proiettato al plurale all'inglese quel you che appunto non diventa un v in italiano ma è solo una trasposizione ed è sempre quella particella pronominale a singolare che diventa al plurale e ti crea più conforto immagino perché appunto dal fatto che dici se mi perdo in un certo senso dici prendetemi prima per evitare che cada nella trappola in un certo senso o non necessariamente cadere nella trappola ma cioè non è necessariamente una trappola quella in cui mi perdo potrei perdere mi intendo sostanzialmente ma è anche dovuta a una necessità mia per cui magari non sto più bene su quella strada la posso cambiare ti prego vieni con me è sostanzialmente è questo ti senti più al sicuro in un certo senso esatto sì esatto o magari anche potrei perdermi a cadere in una trappola per cui rimani accanto quindi diciamo sono le varie sfumature che cerco di non specificare volutamente per tenere un po' nascoste ognuno in base alla sua esperienza al suo aglio può identificarsi e riconoscersi in una o l'altra questo sostanzialmente bella perché comunque diciamo c'è sempre tu hai creato diciamo una sorta di paradosso all'interno della poesia perché se noi andiamo a riflettere in una visione fisica del tempo tu quello che fai non puoi tornare indietro non puoi essere preso da dove sei e dire torno sui miei passi fisicamente è impossibile se vai a vedere il tempo perché tu vai sempre avanti col tempo non puoi tornare indietro è impossibile però in contrapposizione fa capire che invece psicologicamente in un certo senso puoi acchiappare quel tempo elaborare quello che c'è all'interno di quel lasso di tempo che stai vivendo però vai sempre avanti però puoi modificare e avere quell'apparenza di essere tornato indietro perché in un certo senso elimini quei pensieri quelle esperienze dentro di te che hai svolto nella vita e cambi strada cioè è un bel paradosso che hai creato all'interno della prima e poi anche il fatto di fare affidamento sugli altri a me sorprende perché comunque nel mio carattere invece faccio affidamento su di me sono più egoista diciamo invece che altruista che dico ascolto gli altri prendetemi in un certo senso e cercate di frenare le mie intenzioni se vedete che non sono quelle più corrette per come sono io più giuste diciamo poi è relativo eh quindi la metto lì però è molto ristretto cioè io non sono è ristretto a un numero cioè questa poesia fa riferimento a un numero ristrettistico di persone per cui è una cosa molto ristretta io non non faccio affidamento solo su di me perché molte cose non le so fare e quindi ho bisogno anche delle altre persone sostanzialmente per cui non posso per questo fare anche per questo fare un affidamento solo su di me però magari sì è un riferimento anche a se stessi come ho detto prima dalle proprie sfumature da quelle che sono le proprie intenzioni e inclinazioni sì infatti per quello anche io ti ho detto quel tu proiettato a plurale però non è un voi l'ho detto perché voi dà quell'idea di persone esterne a te quel tu fa capire che all'interno c'è anche un te stesso di un'ora fa di dieci anni fa di cinque anni fa e così via per quello ho detto quel tu che rimane uguale perché voi dà l'idea invece di altri poi anche sul fatto che sono poche persone beh si dice sempre che gli amici veri ho le conto sulle dita di una mano e le dita di una mano non sono 30-40 o 788 come direi termini di facebook che quelli sarebbero gli amici amici tra virgolette tra tante virgolette allora ora poi legge la seconda guarda perché dobbiamo un po' accelerare perché siamo già a 20 minuti per quello se no potevi andare avanti vai vai la seconda poesia che ho scelto in realtà è una delle prime a cui tengo tantissimo ricordo in particolare ricordo solo questa cosa bellissima la scritta il giorno stesso in cui l'ho pubblicata poche ore prima che la scrivessi quindi ci tengo veramente tanto nonostante sia passato parecchio tempo e si è cambiato anche abbastanza probabilmente cerca soltanto di non perderti di non prenderti troppo sul serio e cerca di sorridere più che puoi cerca di non appassare mai troppo lo sguardo cerca di viversi cercati ogni volta che serve non temere di dare un sorriso a chi lo ricambia e non temere mai troppo le parole ma cerca di dargli sempre il giusto peso cerca soltanto di essere te e un po' faccio la parentesi per cui io penso che le mie poesie più belle quelle che almeno a me piacciono di più sono quelle che ho dedicato a qualcuno e questa era una di quelle che ho idealmente dedicato ad una persona a cui tenevo e in parte tengo molto ed è un po' un tentativo di dire una cosa che fondamentalmente dico anche a me cioè cerca di essere te stesso di non perderti te stessa perché in questo caso è una ragazza però voglio dire anche nel mio caso cerca di essere te stesso di non perderti e non prenderti necessariamente troppo sul serio alla fine vivi anche il momento vivi quello che devi vivere e non temere neanche le parole ok lo dico da un punto di vista particolare le parole hanno tutte un loro peso ed è difficile calibrarle ma ci sono alcuni casi in cui secondo me non è necessario alla fine dargli un eccessivo peso quanto più è più importante cercare di vivere la situazione cercare di rifugiarsi in quello spazio cerca quello spazio ideale in cui non devi dare necessariamente tutto il peso del mondo alle parole perché tanto a te hai delle persone a cui o non importa o comunque ti conoscono e quindi conoscono magari che puoi avere difficoltà puoi avere difficoltà a conoscere alcune ad esprimere certe cose con le parole adatte quindi un po' il messaggio che vuoi dare che non hai detto però che nascondi è il vivi e lascia vivere un po' diciamo la frase vivi e lascia vivere di considerare quello che accade durante la sua vita ma non farselo troppo pesare non farselo troppo ingigantirlo troppo diciamo perché comunque anche lì in generale un aspetto che ti dice una persona di te che è esterna nella tua vita intanto non ha senso già di base perché non sa cosa c'è dietro la tua vita non sa cosa hai passato non sa che tutto cioè puoi immaginarselo ma se tu immagini è limitante la cosa finché non capisci non sai non puoi parlare poi c'è gente che lo fa lo stesso ma non ti devi soffermare su questo in generale secondo me perché non ha senso già di base per sé è un po' quello che ho cercato di esprimere in questo caso sì quindi grazie per averlo perché la mia cosiddetta è stata compresa insomma sì perché appunto tu si vede anche il fatto che tu questa persona la conosci e non è una tua immaginazione dal fatto che l'hai vista una volta e basta ci fa capire che dietro c'è una conoscenza c'è stata o c'è non lo so però di sicuro qualcosa c'è stato conoscenza dico non è una relazione un rapporto però basta la conoscenza il sapere dell'altro e il sapere dell'altro è molto di più di un'immaginazione lo vedi anche quando una persona che ne so ha avuto un momento difficile se tu la capisci è più facile addentrarsi in lei e aiutarla mentre se ti limita a immaginare senza aver vissuto quell'esperienza come quella persona è difficile per quello dico spesso che l'immaginazione e il capire sono due confini molto netti decisi che a volte puoi anche stare nel limbo in mezzo e capire più o meno ma se non capisci a fondo secondo me in realtà non puoi capire più o meno o capisci tutto o immagini sembra una questione drastica ma in realtà è così perché capire un po' no un'esperienza o la vivi tutta o non la vivi non c'è una via di mezzo secondo me e tornando sempre alle poesie cos'è che già un po' l'abbiamo intuito da queste due poesie ma in generale cos'è che ti ispira di più quando scrivi cosa ti soffermi di più quando ti viene da scrivere un ricordo l'ambiente esterno cos'è che ti ispira maggiormente allora e questa era una delle domande che temevo di più perché diciamo che sostanzialmente mi ispirano tutte le necessità che io posso avere in un determinato momento diciamo in maniera chiara diciamo in una maniera che secondo me fa capire meglio che dicendo forse una cosa un po' banale che io per scrivere ho bisogno di leggere se io non riesco a leggere per qualche giorno mi blocca tutto non scrivo più quindi mi sto male perché non riesco a scrivere quindi in un certo senso è quella la mia ispirazione però dall'altro punto dall'altro là dall'altro punto di vista la mia ispirazione è tutto diciamo cioè tutti i piccoli e grandi problemi che è una persona diciamo in generale io in particolare perché quello di cui so scrivere può avere è un po' tutto ed è solo la lettura quindi diciamo la lettura è un po' come il fardello che non riesci a togliere perché ne hai bisogno è quella che poi ti trascina nello scrivere che nello stesso momento ti influenzano questo quello che hai descritto adesso quindi come diciamo quello che ti ispira e quello che ti trascina sono complementari devono collaborare in un certo senso per passi che tu scrivi perché se manca uno se manca l'altro lì sale la difficoltà diciamo lì sale cioè l'influenza non è totale non ti porta allo scrivere ma ad avere un pensiero forse o ad avere altro ma che non è poesia sì esatto è un tentativo di conoscere il modo di esprimersi delle altre persone per poter acquisire io un modo diverso per esprimermi che magari è più efficace non è necessariamente un modo di corrompere diciamo quello che sono io quello che direi se non se non conoscessi o non avessi letto diciamo quelle determinate parole o quei determinati versi o non avessi visto un determinato film o sentito una determinata canzone anzi probabilmente non ci sarebbe neanche un modo un mio modo di esprimere senza queste cose vai vai no avevo finito è sostanzialmente un ascolto te e poi tu cerca di ascoltare me insomma sì è un aspetto reciproco e quindi dato che è complementare l'attività di lettura prima di scrivere una poesia immagino che questa lettura comunque ti abbia un po' influenzato quando tu scrivi una poesia quindi ti chiedo chi ti ha più influenzato nel tuo scrivere di scrittore cantautore filosofo psicologo e così via allora anche questa era una domanda a cui ho molto pensato perché non saprei forse rispondere in una maniera chiara e soddisfacente anche per me io vorrei sapere chi mi ha influenzato in un'altra particolare diciamo che io ho iniziato a scrivere grazie a un autore in particolare che è Simone Savogin ok uno slammer bravissimo dal mio punto di vista grazie a cui ho conosciuto diciamo quel mondo il mondo della slam poetry e tutto tutto il mondo della poesia in generale e infatti all'inizio ho cercato di scrivere in quel modo attraverso quell'utilizzo delle parole e dei suoni però poi piano piano mi sono discostato perché appunto non era molto il mio linguaggio diciamo quindi è è un po' un misto io sono molto influenzato è vero dalle dalle poesie di quel mondo in particolare da quelle di Simone Savogin ripeto in alcuni casi però diciamo che non sapevi definire bene un autore in particolare mi ha influenzato mi ha ispirato molto mi hanno ispirato molto anche delle poesie di Ungaretti per dire di Montale Pasolini o anche l'assetto Aldamerini è un po' mi non sta predito nello specifico è un po' un grande calderone diciamo da cui pesco di volta in volta senza sapere magari quale ingrediente in un certo senso mettendola così è un mashup diciamo fai un mashup di più autori che ti hanno colpito profondamente o non profondamente e da lì ti viene una tua elaborazione del tuo modo diciamo però frutto di questi poeti poetesse sì ho anche influenzato molto anche la eh mi influenza molto anche la musica io non ricordo bellissimo diciamo di una poesia che ho scritto grazie a una canzone di De André di cui adesso non ricordo il nome purtroppo quindi sì mi ispira a tutti mi ispirano molto le canzoni a volte o anche i film i film mi ispirano molto anche il cinema in generale quindi ho un'influenza diciamo garantita cioè data in quel mondo mi piace quindi spesso esco da lì qualcosa insomma ma diciamo nell'influenza dei film è un'influenza diciamo diretta nel senso che tu trascrivi una poesia in base a una scena che vedi di un film o in diretta nel senso che tu vedi quella scena e tu elabori un tuo modo di vedere quella scena o di quel modo di comportarsi o un insieme sì no io direi che è per lo più un'ispirazione in diretta cioè magari un film viene affrontato un problema e io cerco magari quella cosa mi fa scattare una lampadina e io cerco di riproporre di dare il mio punto di vista ecco cerco di trovare una soluzione tra piccolette quindi sì è in diretta perché cerco di trovare una soluzione a quel problema ma è anche diretta se vogliamo perché magari vedo una scena cerco di trascriverla diciamo con le mie parole infatti per un certo periodo divagando forse anche un po' ho cercato di descrivere di raccontare delle storie diciamo proprio per come se dovessi appunto trascrivere una scena per voler raccontare un problema e magari cercare una soluzione come alcune canzoni a macchina è un insieme cioè poi nel complesso è un insieme poi in una determinata poesia può risaltare di più una trasposizione diretta piuttosto che indiretta o viceversa però in un insieme sono sia dirette che indirette queste trasposizioni che fai sì esatto è sì è una via di mezzo tra tutto e niente diciamo se la vogliamo un po' drasticare diciamo tra virgolette io dico così per dire che è una somma di tutto e veramente niente nel senso che è magari solo una mia impressione e quindi una cosa rilevante da un certo punto di vista ma perché già in sé il tutto non coglie mai il niente quando dici ho tutto quando hai tutto non hai niente è una questione dicotomica non puoi avere tutte e due perché se hai sia il tutto e il niente è più di un tutto bisognerebbe trovare una parola che vada oltre questo limite del tutto perché il tutto per quanto sia completo non accoglie lì niente sì esatto è una cosa complicata e beh sì invece ultima domanda poi con calma saluti eccetera per te che cos'è la poesia e se vuoi coerla con una metafora se ti è più semplice oppure con una frase o con un discorso che cos'è la poesia allora vorrei usare una metafora ma non cioè mi piacerebbe utilizzare la metafora perché ritengo che in alcuni casi sarebbero molto più efficaci delle parole delle parole ma non me ne viene in mente nessuno per cui dico che è un tentativo da parte dell'uomo dell'uomo come genere umano non necessariamente da parte degli esseri umani di riscavare la superficie delle cose per cercare una verità che non è la verità con la B maiuscola perché appunto io penso che essendo esseri umani non possiamo arrivare alla comprensione totale appunto di tutto ma è la verità con la B piccola intesa come la verità di ogni giorno di ognuno diciamo un tentativo di fare riferimento a un caso specifico magari insignificante magari molto piccolo però scavando all'interno di quell'istante cercando magari cercando magari un significato invece si coglie un'immensità diciamo un tentativo di diciamo fare pace con se stessi con i propri limiti e cercare delle risposte a delle domande che ci parliamo tutte le volte che magari può essere anche un'altra domanda cioè vedere il problema da un altro punto di vista porre una domanda per magari aprire altre possibilità come ho fatto in alcuni casi non saprei definirlo bene anche in questo caso un tutto e un niente un utilizzo molto molto accurato delle parole degli spazi poesia non è andare a capo o creare un verso a caso come vedo in alcuni casi è un tentativo di scavare la realtà andare anche oltre le parole perché le parole le abbiamo create noi sostanzialmente e magari non sempre colgono quello che vogliamo rappresentare vogliamo dire per cui anche l'andare il banale banale tra virgolette andare a capo è un tentativo di prendersi una pausa una sorta di prendersi una pausa dare un respiro per andare oltre o la punteggiatura senza diciamo la poesia è qualcosa in cui tutto ha il suo peso che apparentemente insignificante in realtà è sempre enorme dipende dal punto di vista della persona che scrive e che legge ottima sfidazione comunque io ho capito tutto poi non so dall'ascolto però per me è tutto chiaro spero di essere stato chiaro in generale nel caso o ce lo fanno sapere o in qualche modo ti riascolti e poi comunque da lì puoi diventare te critico e capire dove migliorare perché anche lì nella vita come nella poesia è tutto un migliorare la poesia che scrivi all'inizio sono diverse da quelle di oggi io non lo trovo anche io in prima persona quindi anche lì non è che bisogna cogliere un momento come difetto ma come un punto per migliorare se stessi ed altro cioè anche io mi rendo conto di avere delle difficoltà ma so che riascoltandomi o con il giudizio delle altre persone posso andare meglio perché anche lì andare peggio non puoi perché non esiste la parola peggio in un miglioramento perché se tu parti da un momento sei sempre te poi piano piano ti costruisci il tuo mondo i tuoi punti le tue strade e il peggio a meno che proprio regredisci mentalmente per dirla un po' la brutta non puoi perché il peggio non è che sei te te sei te punto non è che sei meglio te sei peggio piano piano sali 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 e costruisci 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 esatto esatto è un percorso fatto di anche alti e bassi magari in cui a vero che quella strada appunto non si lascia abbandonata diciamo teoricamente esatto non dovrebbe esserci un peggio c'è il peggio anche lì i bassi ci sono ma non è che quel punto basso è molto più basso della tua partenza per intenderci c'è sempre un crescente iniziale poi arrivano i bassi è naturale siamo umani non è che tutta la vita possiamo essere strafelici c'è gente che ci riesce è difficile però comunque l'importante nei momenti bassi è scavare per andare su sembra un paradosso però è così perché se tu scavi vai in alto perché è già un miglioramento lato che tu ti rendi conto di scavare perché molte persone purtroppo si lasciano andare e non si rendono conto che in realtà se sei consapevole di scavare riesci se non sei consapevole di scavare vai in basso è un po' come io faccio la metafora del pozzo quando tu sei in difficoltà sei dentro questo pozzo se tu inizi ad essere consapevole di essere dentro quel pozzo ti rialzi risali cerchi un modo se ti lasci andare non sei consapevole rimani lì e non è che vai più giù perché il pozzo è lì a meno che scavi tu sotto in maniera diciamo frenetica senza essere consapevole sali vai in alto prima o poi è questione di consapevolezza in sostanza si precisamente è un lavoro duro ecco beh si ovvio me ne rendo conto anche io allora questa era la diretta non diretta non lo so ma comunque l'episodio perché dovrebbe uscire prima o poi ovunque lo vedrete Spotify poi faccio anche io la storia su Instagram eetera anche Nicola quindi potete recuperare tutto Nicola saluti vuoi salutare qualcuno qualcuna qualcun no non in particolare grazie grazie dell'opportunità grazie a tutti quelli che mi ascolteranno e daranno importanza alle mie parole per cui potrò essere dare uno spunto di pensiero insomma e nulla grazie a tutti buon procedimento e buona vita allora noi ci risentiamo per il prossimo episodio che è ancora lì ammetto io non so se sarà episodio del passato ricordi del passato o un altro ospite o un altro ospite ma comunque restate sintonizzati perché il podcast è sempre presente e con una sorpresa dietro l'angolo noi ci rivediamo presto e nulla spero avete spero che abbiate gradito questo episodio anche questo improvvisato e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti